Sulla quale possiamo dormire tranquilli. Probabilmente per noi è pesato l'aver fatto tanto contattressi, molto probabilmente, e lo sottolineo questo molto probabilmente, è un superlativo assoluto, è il fatto rappresentato anche dal fatto che noi non abbiamo aperto le scuole. Il mese che abbiamo avuto di vantaggio, perché le altre comunità si ritrovano questa difficoltà. I vaccini sono la condizione sine qua non per affrontare questa partita. Nel Vicentino dall'Uso 8 sono state immunizzate 17.450 persone per un totale, compresa la seconda dose, di 29.450 vaccini somministrati, 3.681 in più rispetto alla scorsa settimana. Insomma, il piano vaccinale va avanti e questa è la vera sfida per un Veneto covid free. L'attenzione sul nostro territorio ora è rivolta principalmente alla vaccinazione della popolazione over 80, che nell'area di pertinenza dell'Usberica conta 31.200 persone. Nella settimana appena trascorsa, i centri vaccinali di Vicenza, Trissino, Valdagno, Nonigo e Noventa si sono dedicate ai nati del 1941. Ora tocca il 40. Sì, la cassa 40, poi il 38, e poi il 39, il 38, ci avviciniamo agli ulti centenari, speriamo di arrivarci presto. Ancora una volta abbiamo dato dimostrazione, Comune, Ulss e Fiera di Vicenza, di un'organizzazione imponente. In poche ore siamo riusciti ad allestire questa struttura per le vaccinazioni. Partiamo con i nostri anziani, con le persone più fragili, e speriamo che arrivino anche più vaccini per poter velocizzare i tempi anche di vaccinazione della popolazione di Vicenza, della provincia. quindi soddisfazione per questo risultato e da quello che si vede è assolutamente ordinato ed efficiente il servizio ed è la risposta migliore che la nostra sanità possa dare.